bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi vi volevo mostrare una classe che mi sta dando tante tante soddisfazioni onestamente dopo un po' di tempo che provo a cambiare armi sono passato dalla K47 all'XM4, all'M4A1 ho fatto un po' di cambiamenti ma onestamente non mi trovo più con nessun'arma forse forse la K47 di Cold War ancora dà delle soddisfazioni però dopo aver sbloccato e livellato quest'arma vi giuro che è un'arma magnifica un'arma ferma che fa il suo danno e tutto mi è sembrato di ritornare a giocare con il Kilo ora vi mostro subito il settaggio quest'arma è il Vargo 52 è un'arma di Black Ops, sicuramente la conoscerete tutti non mi ricordo una missione per sbloccare l'arma però è molto semplice da fare e vi mostro subito il settaggio e allora, come volata al solito soppressore gru settaggi delle armi di Black Ops a differenza delle armi di Vanguard o di Modern Warfare diciamo che sono molto simili quindi potete sicuramente rivedere questi settaggi anche nelle vecchie armi che utilizzavate voi su... di Cold War comunque, come volata utilizzo il soppressore gru come canna, l'ultima canna, la task force da 18,6 mirino sempre l'axial 3x impugnatura l'ultima e come munizioni 45 colpi ora, non metto i 60 perché va troppo a rallentare l'arma e onestamente, siccome vi dicevo che è un'arma abbastanza precisa secondo me non ha senso andarla a farla diventare più lenta se praticamente con 45 colpi riuscite tranquillamente a fare anche 2 kill ora, come secondaria, io sto riutilizzando il Bizon c'è stato un periodo che lo utilizzavo adesso è stato di nuovo migliorato, dicevano infatti ho visto un po' di persone che lo stanno riutilizzando vi mostro anche il settaggio del Bizon magari vi può interessare allora, come volata silenziatore monoblocco la canna da 8,7 in acciaio il laser da 5 calcio rimosso e impugnatura la seconda, impugnatura varretino che vi da la velocità modalità mirino e velocità di fuoco dopo scatto comunque, per quanto riguarda invece l'età, il tattico e le specialità quelle ovviamente decidete voi come impostarle e nulla io vi chiedo di provare queste armi e di dirmi veramente cosa ne pensate e come vi trovate io onestamente mi sto trovando abbastanza bene mi sembra di aver ricominciato a giocare per bene perché c'è stato un periodo che non riuscivo a trovarmi con nessun'arma nulla con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto spero che le armi vi piaceranno anche dopo averle provate ovviamente lasciate un like al video se vi va e seguitemi nella piattaforma viola durante i pomeriggi durante le mie live bella a tutti grazie